Silvia Calvanico è una bellissima candidatura di questa terra, una professionista, una giovane di questa terra che ancora oggi crede che in questa terra di Sicilia ci possa essere un futuro, ci possa essere un futuro per la sua generazione e soprattutto ci possa essere ancora una prospettiva. È un investimento soprattutto di chi crede che ancora qui sia possibile vivere e va sostenuta per questo. In questa ultima settimana i siciliani hanno davanti un'alternativa, la compagine centrodestra guidata a Musumeci che mi vede designato vicepresidente che vuole offrire alla Sicilia una prospettiva di crescita, di sviluppo puntando sull'economia, sull'innovazione, sulla deburocratizzazione, sulla semplificazione amministrativa e dall'altro l'improvvisazione dei Cinque Stelle che hanno incentrato il loro programma sul cambiamo, 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 quando piuttosto che cambiare dovrebbero spiegare i siciliani che hanno fatto in cinque anni di opposizione e se questi non sanno fare opposizione tantomeno sanno governare come peraltro dimostra l'esperienza di Roma, ma in Sicilia di Ragusa, di Bageria il disastro al governo potremmo evitarcelo, ci è bastato quello di Crocetta, ci mancherebbe quello di Cancellieri. Quindi una scelta importante per i nostri concittadini che speriamo faccia prevalere piuttosto che il giusto malessere, la voglia di protesta, la voglia di governo, la voglia di futuro, la voglia di innovazione. Grazie.